A Milano si è appena concluso il tradizionale Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Ferragosto, presieduto dal Ministro dell'Interno. In diretta dalla Prefettura l'inviata, Giulia Serenelli. A te Giulia. Il Ministro Lamorgese è arrivato qui in Prefettura Milano intorno alle 10. Prefettura, ricordiamo, a Milano è stato prefetto per quasi due anni. Prima di presiedere il Comitato Nazionale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, si è collegata in videoconferenza con tutte le centrali operative delle Forze dell'Ordine. Un ringraziamento per tutti coloro che anche oggi lavorano per il controllo del territorio nella gestione dei servizi d'ordine. Poi appunto la presentazione dell'anno di attività del Viminale. Lo avete sentito in il calo generale di quasi tutti i tipi di reato. Soddisfazione, espresso il Ministro, anche per come è stata gestita l'emergenza Covid con tutte le professionalità messe in campo. E poi anche un passaggio sulla criminalità organizzata. Bisogna tenere alta l'attenzione per evitare che si possa inserire nel circuito dell'economia legale. E poi un focus sull'immigrazione con numeri non eccessivamente elevati ma in aumento rispetto all'anno precedente. Questo anche per effetto della difficile situazione in Tunisia e per i molti sbarchi autonomi dunque più difficili da controllare. Inoltre l'annuncio che l'unidio 17 sarà proprio presente in Tunisia con una nuova visita insieme al Ministro Di Maio e due commissari europei. Ma sentiamo proprio un passaggio delle parole del Ministro Lamorgese. Gli arrivi che noi abbiamo avuto, così numerosi, sono stati determinati da sbarchi autonomi e quindi difficilmente gestibili nel senso di fermarli in mezzo al mare perché erano delle piccole imbarcazioni. Devo dire che il problema maggiore è non soltanto i numeri perché abbiamo detto che non sono numeri elevatissimi perché ad oggi sono circa 15.000. Il problema maggiore anche in questo caso è rappresentato dal Covid-19. Grazie. Grazie.